Ciao a tutti cari amici Provincialotti, grazie dalle condivisioni sempre. Sta arrivando l'estate. Eh sì, però se si permette di tempi sta arrivando. Vabbè, sta arrivando l'estate, quindi dobbiamo pensare sia le chalet, che prenderemo le chalet, non vediamo uguale, ma soprattutto quest'anno l'ombrellone in prima fila. Quale ombrellone in prima fila? Che poi dopo le donne, lo sai com'è fatte, che prende gli lettini, si mette tutti sul bagnasciuga, tu dalla prima passi alla quinta che è un attimo, a pare degli anziani che se frega le sedie alle sagre, e vedi che non vuole stare sotto l'ombra, sotto il sole, allora se ne viva e gli dita sotto l'ombra. Vabbè, io voglio le donne in prima fila. La prima cosa è perché comunque ci sta più vento e quindi sta più arreggiata. E la seconda cosa è perché comunque mi piace vedere la gente che passa a lungo mare, cioè a me mi gusta vedere quelli che passano. Cioè, a me quello mi piace pure a me, soprattutto alla ziane che cammina lì sull'acqua, ve le vede varie cose, no? Eh, appunto, anche a me mi gusta andare a camminare a mezzo all'acqua e se sto giù in fondo, per quando arrivo tra l'acqua, cioè ho i piedi che mi diventate due fettine parate per quando fa cazzo, devi fregare l'ombra a destra e a sinistra. Sì, capito, ma l'olettino in prima fila costa un sacco di soldi. È un po' come quando vai a vedere un spettacolo che ne so a teatro, in platea costa del più, sulla piccionaglia su sopra costa del meno, che può pure più divertente perché poi scudare le persone. Sì, quello è vero. Anche perché si mette le bellicce. Pum, puum, è divertitissimo. Vabbè, però dai, io lo voglio in prima fila quest'anno. Allora, vuoi l'ombrellone in prima fila? Sì. Allora andiamo sulla spiaggia libera. No, la spiaggia libera no. Basta il riappresso sulla spiaggia libera. No, la spiaggia libera no. Ti ricordi di un'anni fa? Ti ricordi di un'anni fa? Eh, siamo andati sulla spiaggia libera e chi è che ha dovuto mettere l'ombrellone? Ci ho dovuto mettere io, eh? Vabbè, io c'avevo il turner carpale che mi faceva male. Eh, sì, a forza di fa' freccette. Perché ti faceva male? Eh, certo, a forza dei piramidi faceva male. Eh, certo, il turner carpale. Io andando gira, che gira con l'ombrellone, cioè, sembravo che ero tipo un muratore quando fa lo cemento. Cioè, mi è venuto l'acido lattico, vi giuro, mi è venuto l'acido lattico. Ma poi, cioè, lo metti alla prima volata di vento, cioè, ti arriva a non c'è sa dove. Mi ricordi la volta che c'è stato un zacco di vento che poi dopo, a un certo punto, l'ha storato a seriagli? Eh, a seriagli, a riagli. Ha detto, pare a... Le frecce di colore pare a... Non è possibile, eh? Cioè... Sì, ma scusa, ma tu vuoi l'ombrellone, vuoi l'ombrellone, l'ombrellone, e poi, in prima fila, l'ombrellone che ti vuoi abbronzare e non ci stai mai sotto l'ombrellone. Ma che c'è? A me mi serve per metterci la roba sotto. Beh, la roba sotto la puoi mettere anche in macchina, no? In macchina? Eh. Ma non mangieremo mai in macchina, che tu non vuoi pagare un gratino e mi fai sempre con la vesca. Ma posso pagare un gratino per parcheggiare di fronte al mare? Ma il mare di chi rende? Tutti quanti, no? Eh, ho capito, ho capito, ma non è che in Vespa ci potremmo portare tutta la roba. Ah, no, c'è la roba che ti vuoi portare, andiamo al mare e ti porto in un termos con lo caffè, che pare che stiamo sei giorni fuori. Vabbè, un po' di caffè. Un po' di caffè, una cucina, un po' di caffè, ci rendi, che non dormo per tre giorni se me lo bevo tutto quanto. Il frigorifero, giustire. Certo, l'interno della deliso della metto, eh? L'interno della deliso, ho capito, ho capito. E poi c'è le creme pure, a me mi serve, tutte cose che a me serve, perché? Ma le creme ne puoi scegliere una, non è che devi portare tutto il set completo da quello che ti bronza di più o quello che ti bronza di più. Oh, io ho la pelle chiara, sono delicata comunque. Questo le fa male, le fa invecchiare, che non lo sai, lo dice tutti, eh? Sì, fa invecchiare, ho capito, ma non è che potremmo far così allora. Eh, allora che facciamo? Cioè, come facciamo? Mi hai venuto un'idea? Mi hai venuto un'idea? Che c'è? Stefania Correnzo, l'amici tuoi. Eh? Loro rubia sempre. Sì, rubia sempre. Prima fila. Sì, perché già i bambini... Oh, perfetto! Loro devono andare al mare presto. Eh, sì, dopo che è caldo, il bambini è domani. Il brucia, no? Il brucia, no? No, ma che c'entra? A noi, quando loro si fanno via, noi ci mettemmo lì da loro. Porca miseria! Questa è una segnalata. Tu a nuovo con una tecnica, gli hanno messo, eh, prendete dove, che numero devi fare? Così noi veniamo a trovare, mitando. Loro appena si fanno via, poi, per me, ci mettemmo subito lì. Porca miseria, questa è perfetta. E poi andiamo, allora, faccio una cosa sulla Vespa, ti metto pure il portapacchi, così ci potremmo mettere anche le sdraie quelle del camper del Luigi. Ricordi, quelle malarate? Quelle le mettiamo lì, non dobbiamo pagare niente, manca niente. Porca miseria, va preciso. C'entra tutto, c'entra cosa giustile, c'entra termos. voi comunque non glielo dite, cioè, mi raccomando. Fatevi i cazzi vostri, cioè, non è che puoi andare... Porca, questa è una segnalata. Quando se sta vera... Ma quando se sta vera nelle Marche? Ma soprattutto nelle Marche, sull'ombrellone e gli amici nostri, quando se sta vera? Precisa, ci siamo sistemati alle stagie. Ma a posto, a posto, in prima via, in prima via, però che non paghiamo, non diventiamo. Poi...